Musica Il cuore del Papa è già a Genova, oggi pomeriggio telefonata a sorpresa all'ospedale Gaslini durante la diretta di Radio Fra le Note con Don Roberto Fischer. E Genova abbraccerà il Papa sabato, un momento significativo sarà vissuto all'Ilva di Cornigliano dove il Pontefice incontrerà il mondo del lavoro, realtà complessa ma aperta e fiduciosa. Incontro cordiale in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti d'America, dal Pontefice un invito a lavorare per la pace, ne abbiamo bisogno, ha risposto Trump. Dio cammina sempre con noi, la speranza della Chiesa si fonda su questa certezza, lo ha spiegato il Santo Padre durante l'udienza generale prendendo spunto dai discepoli di Emmaus. Assolti i tecnici della provincia di Genova per il crollo del ponte di Carasco nell'ottobre del 2013, la sentenza emessa oggi pomeriggio riguarda due ingegneri e due geometri. Eliminare gli spot sul gioco e dare pieni poteri ai comuni sono alcune delle proposte delle associazioni anti-azzardo in vista della conferenza Stato-Regioni di domani, oggi riunione in fondazione anti-usura a Genova. Nello sport e nella vita non si vince da soli, lezione a rapallo dell'ex palavolista Andrea Zorzi, aperto al Teatro delle Clarisse, il dodicesimo convegno sportivo della Winner Volley. La diocesi di Chiavari a sostegno di Telepace, nelle parrocchie si celebrerà domenica l'annuale giornata di sensibilizzazione per l'emittente, sul sito internet l'elenco delle parrocchie partecipanti. Siamo arrivati a Tiguglio oggi, dunque il cuore di Papa Francesco è già a Genova, lo ha dimostrato concretamente oggi pomeriggio con una telefonata a sorpresa durante la diretta radiofonica di Radio Fra Le Note. L'emittente radio via web che è stata ideata e viene portata avanti da Don Roberto Fischer. Periodicamente l'emittente si collega dall'ospedale Gaslini offrendo un momento di intrattenimento ai piccoli ricoverati e proprio durante questo appuntamento fisso c'è stata la telefonata di Papa Francesco. Vi mostriamo il video registrato da uno dei papà che erano presenti in quel momento proprio durante la telefonata del Papa. Papa Francesco! Papa Francesco, ti ascoltiamo tutti, tutto il Gaslini. Cari bambini, ospiti dell'ospedale Gaslini di Genova, Vi saluto tutti con affetto in attesa di incontrarci sabato. Grazie. 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 Voglio dirvi che attendo con gioia è il momento di incontrarmi con voi e con i vostri familiari. Vengo per stare un po' vicino a voi, ascoltarvi e portarvi la carezza di Gesù. Lui è sempre vicino a noi, specialmente quando siamo in difficoltà e abbiamo bisogno. Lui sempre ci dà fiducia e speranza. Prego già adesso per voi e voi per favore pregate per me. Grazie. Vi abbraccio a tutti. Grazie. Papa Francesco, grazie. Io volevo con te pregare un Ave Maria perché noi subito mettiamo in pratica quello che ci hai chiesto. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto del frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, a te, nel nostro e nella morte. Grazie. Grazie. Invenimenti a Dio di Dio, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Grazie Papa Francesco. Un abbraccio a tutti. Grazie. Saluta Papa Francesco. Ciao Papa Francesco. Ciao, ciao, bravo, ciao. Ciao. Ciao, siete bravi tutti. Ciao. Ciao, siete bravi. Ci sono anche i papà e le mamme e volevo dirti che ti salutano tanto anche tanti papà e tante mamme che hanno i bambini in cielo. Ecco, benissimo, un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao Papa Francesco. Bravo. Grazie, grazie. E buonasera a Don Roberto Fischer, direttore di Radio Fra le Note. Buonasera, buonasera a voi. Eri visibilmente emozionato? Ero molto emozionato. Comunque, dai, non è che ti chiama tutti i giorni. Però nel suo tempo sento che ero proprio, dovevo essere lì per quei bimbi, quindi non dovevo esserlo. Cioè dovevo essere emozionato però anche, comunque, sveglio. Assolutamente. Senti, ci leghi una curiosità, chi è che ha risposto al telefono al Papa? Eh, io. Cioè ha telefonato proprio durante la diretta radiofonica. Ma è stata una sorpresa, tu non te l'aspettavi. No, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi, insomma, in pochi secondi sei riuscito a riordinare le idee. Abbiamo qualche difficoltà di collegamento con Don Roberto Fischer. Chiaramente la giornata poi si è susseguita per Don Roberto in una continua emozioni e poi telefonate. Insomma, è stata un po' all'evento di questo pomeriggio. Noi proseguiamo però continuando a raccontarvi l'attesa di Papa Francesco a Genova, che sarà nel pomeriggio di sabato all'ospedale Gaslini di Genova. Ma la prima tappa della sua visita sarà allo stabilimento Ilva di Cornigliano. Qui il pontefice è atteso sabato mattina attorno alle 8.30 per un incontro col mondo del lavoro genovese della durata di circa un'ora. Sarà una sorta di dialogo preparato e atteso dai lavoratori in rappresentanza di diverse professioni. Sentiamo come è stato preparato dal direttore dell'ufficio per la pastorale del lavoro genovese, Don Giampiero Carzino. Quali attese ci sono da parte dei lavoratori per questo incontro con il Papa? Questo è un incontro molto significativo perché non è normale che in una visita del Papa in una città ci sia un incontro specifico al mondo del lavoro. È capitato uno o due volte con Papa Francesco. Quindi noi siamo veramente emozionati da questo. E anche i lavoratori hanno avuto una risposta notevole, non solo quelli che abitualmente hanno rapporti con le chiese, con le parrocchie, ma dal mondo del lavoro abbiamo avuto una risposta generalizzata, trasversale. Come sarà strutturato l'incontro con Papa Francesco? L'incontro è strutturato a dialogo come anche gli altri incontri che verranno escluso alla Messa, che invece è un punto di preghiera. Quindi ci saranno delle domande, delle testimonianze da parte dei rappresentanti, dei lavoratori, dei sindacati, degli imprenditori e le risposte di Papa Francesco. Il tutto in un'ora, quindi non è una durata lunghissima, però certamente è una grande occasione, perché tutto un'ora dedicata al mondo del lavoro è molto significativa. Qual è la realtà lavorativa che si presenta al Papa e che, diciamo così, connota un po' il tessuto sociale genovese? È molto variegata, indubbiamente. Noi abbiamo cominciato privilegiando le industrie, come dicevo prima, quindi la parte manufatturiera, però poi abbiamo voluto per rappresentanze far partecipare all'incontro anche tutte le altre realtà, dal porto al terziario, alla logistica, tutte le varie esperienze che sono presenti, perché Genova di fatto ha un'economia che si basa su alcune gambe. Quindi abbiamo tutta una serie di settori che contribuiscono col turismo che si sta facendo adesso come voce nuova, ma significativa, a tenere in piedi l'economia della città. Che cosa vi aspettate da questo incontro con il Papa, per il lavoro, ma diciamo proprio per Genova, per l'intera diocese? Sicuramente un incoraggiamento a una intera chiesa, quindi il sentire la voce di Pietro che ci dice la direzione in cui dobbiamo spingersi, in cui puntare e incoraggiamento e la forza e la testimonianza che ci viene da lui è sicuramente un grande messaggio per noi. La visita di Papa Francesco a Genova sarà in primo luogo una grande giornata di festa, ma per garantire l'assistenza sanitaria in caso di necessità ai pellegrini, il sistema sanitario regionale ha previsto il coordinamento delle attività sanitarie di emergenza dell'area metropolitana genovese. Sono state rafforzate le equip mediche, chirurgiche, infermieristiche e tecniche in tutta la ASL3, al Policlinico San Martino e al Galliera. Ed è garantita anche l'eventuale disponibilità di posti letto in un'area attiva al pronto soccorso. Inoltre è stata predisposta la presenza di un ambulatorio mobile con a bordo un medico e un infermiere nel giardino davanti alla stazione ferroviaria di Genova Brignole dalle 8 alle 20. E sono previste anche postazioni sanitarie con professionisti e mezzi dedicati. È stato potenziato anche il personale del servizio di emergenza sanitaria che nella giornata di sabato sarà in campo con circa 340 persone, 33 ambulanze, 39 coppie di soccorritori a piedi, di cui 7 con un medico, 11 postazioni di trattamento sanitario e 8 squadre del soccorso alpino. In occasione della visita del Papa a Genova, poste italiane emetterà due annulli filatelici. Il primo potrà essere richiesto nello spazio Filatelia Genova in via Dante 4 a Nero nella giornata di sabato dalle 8.20 alle 12.35. Il secondo, promosso dall'Arcidiocesi di Genova, potrà essere richiesto all'Infopoint di Piazza De Ferrari nella stessa giornata dalle 10 alle 16. Per l'occasione, inoltre, saranno predisposti due kit di cartoline collegate alle impronte figurate e un folder a serie limitata. Sabato 27, in concomitanza con la visita di Papa Francesco a Genova, gli uffici della Curia Vescovile e Chiavaresi saranno chiusi. L'incontro tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è stato cordiale, è durato circa mezz'ora ed è stato incentrato principalmente sulla collaborazione fra Stato e Chiesa Cattolica in America. Al termine c'è stato tempo per la presentazione della consorte del Presidente Melania, per la figlia Ivanka, il genero e lo scambio dei doni. Il colloquio è avvenuto in privato. Prima di lasciare il Vaticano, Trump avrebbe avuto modo di ringraziare con queste parole. Grazie, non dimenticherò mai quello che lei ha detto. Vediamo. La collaborazione tra lo Stato e la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, impegnata a servizio delle popolazioni nei campi della salute, dell'educazione e dell'assistenza agli immigrati, è stata al centro dell'atteso incontro di Papa Francesco in Vaticano con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Nel corso del colloquio privato, per circa mezz'ora, riferisce la sala stampa vaticana, il Papa e il Presidente Trump hanno espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, e per il comune impegno a favore della vita e della libertà religiosa e di coscienza. C'è stato inoltre uno scambio di vedute su alcuni temi di attualità internazionale e sulla promozione della pace nel mondo, attraverso il negoziato politico e il dialogo interreligioso, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente e alla tutela delle comunità cristiane. Al termine del colloquio, il Presidente Trump ha presentato al Papa la moglie Melania, che ha ricevuto una speciale benedizione per il rosario che aveva tra le mani la figlia Ivanka e il geneto Jared Karschner. Tra i doni del Papa al Presidente, una copia dei suoi documenti Evangelii Gaudium, a Moris Letizia, laudato sì, e una copia del messaggio per la giornata della pace del 2017, autografato personalmente dal Pontefice. Non dimenticherò ciò che lei mi ha detto. Sarebbe stato il saluto finale del Presidente Trump al Papa al termine dell'udienza, prima di raggiungere nella prima loggia del Palazzo Apostolico il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e l'Arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Dopo l'incontro con il Presidente americano, Papa Francesco ha presieduto l'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Il Pontefice si è soffermato sull'esperienza dei due discepoli di Emmaus, di cui parla il Vangelo di Luca, il servizio del Centro Televisivo Vaticano. L'incontro dei due discepoli di Emmaus con Gesù è il primo esempio della terapia della speranza attuata da Cristo, che nella strada si fa vicino a due uomini delusi e sconfitti, e dona a loro speranza. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'udienza generale, dedicata sempre alla speranza cristiana. Quello di Emmaus è il cammino della speranza, perché i due pellegrini all'inizio coltivavano una speranza solamente umana, che ora andava in frantumi. Per loro quella croce issata sul Calvario era il segno più eloquente di una sconfitta che non avevano pronosticato. Poi l'incontro con Gesù, uno dei tanti incroci che capitano nella vita, che anzitutto domanda e ascolta. Noi speravamo, ma, dicono i due, emblema dei fallimenti che ci sono nella vita di ogni persona. Gesù, camminando con loro, riesce a ridare speranza. Parla attraverso le scritture, che testimoniano come la vera speranza non è mai a poco prezzo. Passa sempre attraverso delle sconfitte. E poi spezza il pane dell'Eucaristia, spezza la nostra vita, perché non c'è amore senza sacrificio, e la offre a tutti. Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta. Lì è il Signore. E questa è la nostra speranza. Andiamo avanti con questa speranza, perché Lui è accanto a noi, camminando con noi, sempre. Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'annuncio è stato dato questa mattina dal Cardinale Angelo Bagnasco al termine della Santa Messa nella Basilica Vaticana, alla quale hanno partecipato tutti i vescovi italiani riuniti per l'Assemblea Generale. Il Cardinale Bagnasco, presidente uscente, ha ringraziato il Papa per questi dieci anni di servizio nella Chiesa Nazionale. Con Bassetti si apre una nuova stagione per la CEI che in questi giorni affronta il tema dei giovani e della fede. Questa mattina nel gruppo di studio c'erano anche tutti gli incaricati della pastorale giovanile regionale. Da parte dei vescovi c'è il desiderio di poter accompagnare ancora di più i ragazzi di fronte alle sfide che ogni giorno si trovano ad affrontare. Ora veniamo alla cronaca locale. Sono stati assolti da tutte le accuse mosse nei loro confronti i quattro tecnici della città metropolitana di Genova imputati nel processo per il crollo del ponte di Carasco. Il fatto, lo ricorderete, era avvenuto durante una violentissima piena del torrente Sturla che era avvenuta nella notte fra il 21 e il 22 ottobre del 2013 in cui persero la vita Lino Gattorna e Claudio Rosasco che stavano percorrendo in auto la strada provinciale 225. Il Tribunale di Genova con sentenza pronunciata alle 16 di questo pomeriggio ha assolto gli ingegneri Pietro Bellina e Stefano Cianelli e i geometri Renzo Garbarino e Gino De Lucchi dipendenti della città metropolitana all'epoca ancora provincia di Genova. Gianluca Buccilli, consigliere delegato al personale della città metropolitana anche a nome dell'amministrazione dell'ente ha espresso soddisfazione per la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova che ha riconosciuto la correttezza nell'operato dei tecnici anche in questa vicenda purtroppo tragica. Il nostro ente, aggiunto, ha sempre avuto piena fiducia in loro e nell'operato della magistratura. Eliminare la pubblicità e mantenere i poteri degli enti locali sono le richieste più forti tra le sette individuate che le realtà associative contro il gioco d'azzardo presenteranno domani al Governo in occasione della conferenza Stato-Regioni. Oggi a Genova, riunione dei sodalizi Liguri anti-slot nella fondazione anti-usura Santa Maria del Soccorso. Abbiamo sentito il Vicepresidente. Sono sette i punti fermi individuati dalle associazioni anti-azzardo in vista della conferenza Stato-Regioni di domani in cui sarà analizzata la proposta del Governo per regolamentare il gioco in concessione statale. Due, i punti più importanti secondo la consulta nazionale anti-usura. Certamente il primo punto è quello sulla pubblicità. Trattare il gioco d'azzardo alla strego del fumo sarebbe un atto dovuto e doveroso. Questo mi pare che sia un punto fondamentale. Certamente è anche importante l'altro discorso di lasciare poteri alle regioni e comuni di intervenire sul territorio per vedere di limitare sia la dislocazione sia l'eventuale durata di apertura e chiusura di queste sale gioco. Il Governo recepirà queste posizioni? Tra le associazioni non c'è molto ottimismo. Il documento con le sette richieste d'altra parte ricalca l'appello anti-slot del 2015, rimasto inascoltato. Perché ci sono in gioco, per ciò che riguarda il Governo, 10 miliardi di entrati fiscali dal gioco d'azzardo che hanno prevalenza su tutte le malattie, le dipendenze, le spese che si fanno per realizzare i giochi d'azzardo. I casi che seguiamo noi in questi due anni di persone ammalate di gioco d'azzardo sono aumentati del 300%. Ha sortito maggiori speranze invece l'emendamento taglia-slot illustrato alla Camera dal sottosegretario all'Economia, Pierpaolo Barretta, secondo cui il numero degli apparecchi dovrà diminuire del 15% entro la fine dell'anno e per arrivare a un meno 34% entro il 2018. Ridurre il numero delle scuole passende è solo un fatto importante. Questo, ecco, bisogna essere corretti e onestero nel dire queste cose. Intanto vediamo se manterranno fede a quello che vogliono fare. Stava facendo una corsa in moto su fuoristrada quando è caduto in un dirupo. È successo ad un motociclista questa mattina nella zona che porta al santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova. L'allarma è scattato attorno alle 12. È intervenuta sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Bolzaneto che ha coadiuvato il personale dei servizi sanitari per il soccorso alla persona che è rimasta ferita. Il medico è giunto sul posto, non ha ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero. Il ferito dunque è stato immobilizzato sulla spinale e tramite la barella è stato trasportato fino all'ambulanza. I carabinieri di Sestri Levante, facendo seguito ad un ordine di carcerazione, hanno arrestato un 36enne residente nella Bimare con vari precedenti che doveva scontare un anno, sette mesi e venti giorni di detenzione per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo era tenuto anche a pagare una multa di 3.000 euro. I reati sono stati commessi a Sestri Levante a Borzonasca nell'agosto del 2013. Il 36enne è stato portato nella sua abitazione dove sconterà la pena agli arresti domiciliari. Cerimonia di premiazione questa mattina per il concorso non sono solo rifiuti che ha coinvolto le scuole di Chiavari in elaborati video, fotografici e di disegno. L'obiettivo era quello di promuovere una cultura meno consumistica e in sintonia con l'ambiente. Sono davvero tanti gli oggetti che prima di venire cestinati potrebbero essere recuperati o riutilizzati in altre forme. Lo hanno imparato gli studenti delle scuole di Chiavari che partecipando al concorso non sono solo rifiuti, si sono divertiti, hanno riflettuto sul tema dello spreco e sulle pratiche del riuso. Noi siamo nel 2017 e ancora non dappertutto si fa la raccolta differenziata. La cultura parte da questi ragazzi che ho qua attorno, dai bambini, dai giovani che sono loro le generazioni del futuro e sono loro che possono darci una società a livello più sostenibile, una società che comprende che non si può consumare tutto all'infinito. Questa mattina al Teatro Cantero di Chiavari si è svolta la premiazione. Per la categoria Recuperare per non dimenticare, la seconda elementare del Maria Luigia ha vinto nella sezione disegno. La seconda F della media Ilaria Alpi del Comprensivo 2 ha ottenuto il primo premio nella sezione foto, mentre le classi superiori di prima, seconda e terza C dell'Istituto Caboto hanno sbaragliato tutti con il video. Per la categoria Bici a Chiavari non si butta invece ha vinto la quarta D del Caboto. Il premio consiste in un viaggio a Göteborg in Svezia per partecipare ad un workshop di riparazione creativa delle biciclette in disuso. Qual è la storia di questo video? Beh, la storia è quella semplicemente di un ragazzo deluso dalla propria bicicletta e attratto da quelle decisamente più moderne. La bicicletta sua lo lascia a piedi, però si pente di averla poi buttata nei rifiuti e la bicicletta però lo segue, lo riconquista e lui alla fine la riparerà e ritorneranno insieme. Le comunità parrocchiali della Diocesi di Chiavari a sostegno di Teleradiopace. Domenica 28 maggio si celebra la giornata diocesana per l'emittente che vive grazie alla provvidenza e alla generosità di tanti benefattori. Durante la Santa Messa Domenicale saranno formulate preghiere e raccolte offerte per Teleradiopace. Sul nostro sito internet, teleradiopace.com trovate un apposito spazio in alto a destra dove sono elencate le parrocchie che effettuano la raccolta e in quale giornata. Domenica prossima celebreranno la giornata diocesana di Teleradiopace numerose comunità. Le vediamo insieme cliccando appunto sull'apposito spazio che trovate sul nostro sito internet. E allora, a Chiavari, nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, a San Giovanni Battista, nel Santuario dei Frati di Sant'Antonio, a Sant'Andrea di Rovereto, Rialto, alle Saline, nella parrocchia della zona pastorale di San Pier di Canne. A Rapallo, San Maurizio di Monti, San Quirico d'Astereto, Sant'Anna, Santi Gervasio e Protasio, Sant'Andrea di Foggia, San Michele di Pagana, San Pietro di Novella e San Massimo. A Sestri Levante, nelle comunità di Loto, San Bernardo, Santa Vittoria di Libiola, Santo Stefano del Ponte, Santa Margherita di Fossa Lupara. A Lavagna, nelle parrocchie di Maria Madre, Nostra Signora del Ponte, Cavi, Santa Giulia, Sorlana. A Santa Margherita Ligure, nelle chiese di San Siro, Corte e Santa Margherita. A Zoagli, nelle chiese di Semorile e Sant'Ambrogio. A Carasco, nelle comunità di Graveglia, Paggi, Rivarola, San Marziano, Santa Maria e San Pietro di Sturla. Nelle parrocchie della zona pastorale di San Salvatore di Cogorno. Nell'entroterra, la giornata per tele radiopace si svolgerà in molte comunità della Val Fontana Buona, Valle Sturla, Val Petronio e Val Graveglia. Nelle parrocchie troverete il manifesto della giornata per tele radiopace. Alcune comunità effettueranno la raccolta nelle domeniche successive. Siamo allo sport. È iniziato questa mattina il dodicesimo convegno organizzato dalla Winner Volley. Il tema scelto per l'edizione 2017 è lo sport a fumetti. A Rapallo, al Teatro delle Clarisse, alcuni oratori d'eccezione hanno incontrato i ragazzi delle scuole. Si sono susseguiti gli interventi di Leo Bozzo, Sinibaldo Nicolini, presidente del Panatron Rapallo, Carlo Candy, veterano della scuola rapallese del fumetto e sceneggiatore di immemorabili storie Disney e Claudio Sciarrone, fra le matite di punta della scuderia disneyana italiana. Sono poi stati premiati i giovani vincitori del concorso di scrittura e disegno a fumetti rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Rapallo. Ad aggiudicarsi il primo premio per la sceneggiatura è stato il tema dal titolo Un sogno irrealizzabile, scritto dagli studenti della seconda A. Vincitore del concorso di disegno invece è stato l'alunno Santa Maria, sempre della classe seconda A, con storia di un campione. La parola è quindi tornata a Claudio Sciarrone, al dirigente scolastico Giacomo Daneri e infine al campione Andrea Zorzi, pallavolista olimpionico Oro a Rio nel 1990 e ad Atene nel 1994, oggi telecronista sportivo. Zorzi ha consegnato un premio alla giovane promessa a Serena Ciaravolo, studentessa rapallese già campionessa di pattinaggio artistico. Il dodicesimo convegno della Winner Volley prosegue domani con l'annuale torneo di mini-volley che sarà ospitato al Parco De Martino a partire dalle 10.30. Roberto Costa ha intervistato Andrea Zorzi. Andrea Zorzi ha lasciato il segno anche a Rapallo. Zorro, come era chiamato ai tempi della Nazionale di Pallavolo, una squadra così forte da meritare la definizione di generazione di fenomeni, ha parlato ai giovani aprendo il convegno lo sport a fumetti promosso dalla Winner Volley. Oggi Zorzi è giornalista sportivo, lavora per Sky, Gazzetta dello Sport, Fox e porta al mondo della Pallavolo in teatro recitando in tutta Italia. Ai ragazzi ha offerto due riflessioni. Primo, evitare la retorica parlando di sport. Credo che la battaglia principale quando si parla di sport ai giovani sia evitare di cadere un po' nella retorica ipocrita che si usa troppo spesso nel linguaggio dei media. Si parla troppo spesso dello sport come un mezzo educativo. Io penso che lo possa essere a certe condizioni. O qualche volta si pensa che lo sport sia solo vittoria e sconfitta. Anche questo è vero ma parzialmente. Quindi quando c'è l'occasione di parlare con persone che sono lì, provare a raccontare una realtà che è un po' professionistica e un po' amatoriale, un po' legata all'immagine, un po' legata ai contenuti. Parlare con sincerità, dicendo di essere credibili, senza essere retorici. Secondo spunto, un invito a collaborare. La pallavolo è un gioco di squadra dove è obbligatorio passare la palla all'altro. La scommessa dunque è quella di fidarsi del compagno, qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno con gli altri, ognuno nel suo ruolo. Ora che sia un vantaggio, uno svantaggio, non te lo so dire. So però che questa è una caratteristica e penso che in un mondo che è un po' malato di individualismo possa essere un bel segnale. Sapere che da solo non puoi fare nulla. Infine, una parola per Papa Francesco, uomo di sport, è presto pellegrino a Genova. Andrea Zorzi ha raccontato di averlo conosciuto in occasione della festa del C6 a Roma un paio di anni fa. Da buon sudamericano lo sport non solo lo ama sul concetto, ma lo ama per la pratica. Quindi questi suoi sorrisi nei confronti di chi giocava a calcio, di chi faceva ginnastica o altre cose mi ha sorpreso molto. In questo senso, si può fare un'altra cosa che è un uomo che è in grado di tenere insieme tante realtà diverse, dalle più alte alle più semplici. Credo sia un grande dono che lui può farci. Al campionato europeo junior di Belgrado la Chiavari Ring Lotta ha portato a casa una medaglia di bronzo. A vincerla è stata Veronica Braschi nella categoria Lotta femminile 62 kg. La giovane atleta in forza alla palestra di Via Gastaldi ha ottenuto il terzo posto dopo un'intensa tre giorni di gare dove si è potuta confrontare con alcune delle migliori atlete del mondo. A soli 15 anni dunque Veronica porta a Chiavari un importante titolo europeo. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere cosa c'è in programma per la giornata di domani. Giovedì 25 maggio la settimana dello sport di Rapallo si conclude con la cerimonia che avrà inizio alle 9.30 al Campo Macera dopo due settimane di tornei che hanno interessato le scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Nuovo appuntamento con gli incontri dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nella sede di Villa Quirolo Rosanna Arrighi terrà una conferenza inserita nel ciclo Oggi vi presento un libro. Prosegue il calendario di appuntamenti dedicato allo scrittore Roald Dall organizzato dall'Istituto Comprensivo Rapallo Zoagli nel Salone delle Scuole Marconi a Rapallo a partire dalle 17.30 convegno sull'importanza della lettura ad altavoce con Carla Baglietto e Simona Calissano docente all'Università degli Studi di Genova. Alle 18 all'Auditorium San Francesco di Chiavari saggio di fine anno della Bottega della Musica la scuola musicale del Villaggio del Ragazzo che grazie al patrocinio del Comune di Cogorno e la collaborazione del Lions Club Val Fontanabuona con Teadei Fieschi si propone anche come occasione di incontro fra giovani musicisti. L'associazione Il Cuore e il Centro Amici di Sant'Anna presentano all'ottagono di Via Trescalini a Rapallo Ugo De Cresi curatore di un documentario sul masticcio ritorno del Daino l'incontro sarà accompagnato da intermezzi musicali con Giulia Ermirio al termine momento conviviale appuntamento alle 21 sempre alle 21 ma Villa Sottanis a Casarza Ligure spettacolo teatrale così fan tutte liberamente tratto dall'opera di Mozart e portato in scena dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Casarza Ligure Castiglione Chiavarese e Moneglia uno spettacolo che ha coinvolto tutti i plessi dell'Istituto ed è frutto di due anni di lavoro non ci sono altri aggiornamenti terminiamo così questa edizione di Tiguglio Oggi la nostra informazione ritorna puntuale domani mattina alle 7.30 con il buongiorno di Telepace ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata grazie per aver guardato